ragazzi leva deragliatore quindi leva sinistra shimano 105 r7000 il cliente in questo caso dopo neanche mille chilometri si ritrova con la leva che fa così in pratica la leva che scarica quindi fa scendere sui pignoni più piccoli funziona la leva grande macina e si blocca quindi non permette la salita sulla corona grande fa uno scatto che in pratica sembrano due dopodiché non sale ecco qua va a vuoto e non sale quindi sgrana il meccanismo interno ho smontato la leva togliendo tutta la parte della leva in pratica il meccanismo interno si è rovinato dopo neanche mille chilometri capitava anche sui vecchi 105 capitava anche che frenando non si poteva scalare perché la leva andava a vuoto quindi questa leva andava ad arrivare qua sotto invece di fermarsi qua arrivava qua sotto e non scalava mi capitava molto spesso che frenavo contemporaneamente cambiavo e andava a vuoto in questa pensavo avessero risolto il problema invece a quanto pare o era già difettosa di fabbrica cosa che può anche succedere ma credo proprio che essendo che funzionava all'inizio mille chilometri mille e cinque li ha fatti ecco qua bloccata e poi va a vuoto grazie a tutti grazie a tutti